Benvenuti nella playlist dedicata al gioco dello Shogi. In questo video vedremo tre castelli Nakazomai a Iru Migigiyoku. Negli schemi proposti per i Gakoi sono state inserite o oltre ai pezzi delle celle colorate di rosso la cui intensità cresce sulla base della forza difensiva. Più pezzi concorrono al controllo della cella più il colore rosso sarà intenso. Questo espediente grafico dovrebbe permettere la valutazione della solidità dei Gakoi. Oltre allo schema verranno proposte quattro valutazioni personali e quindi opinabili. Queste sono relative alla resistenza frontale, alla resistenza laterale, alla velocità di esecuzione e alla compattezza. Circa la velocità di esecuzione è da intendersi come indisturbata, quindi teorica, ipotizzando che l'avversario non crei disturbi. Approfondendo per mezzo di fonti più esperte, si possono notare delle mosse al contorno volte a consolidare la difesa oltre il castello e prevenire attacchi altrimenti insidiosi. Tutte queste mosse al contorno evidentemente limitano la velocità di costruzione del castello, pur non coinvolgendo i pezzi strettamente necessari alla sua realizzazione. Nel caso specifico dei castelli con torre mobile, viene considerata una mossa in più relativa all'indispensabile spostamento della torre stessa. Per compattezza si intende l'unione senza vuoti tra i pezzi che compongono il castello. La compattezza non è di per sé indice di maggiore resistenza. Un castello compatto riduce le minacce per paracadutaggio, da torri e da alfieri, ma contemporaneamente chiude gli spazi di manovra per i difensori o addirittura la via di fuga per il re. Il Gakoi Nakazumai è un castello solo apparentemente molto resistente. Tutti i generali concorrono alla protezione della prima linea in riga 7 dei pedoni. Mentre i generali Argento avanzano in riga 8 accentrandosi, i generali Oro avanzano nella medesima riga allargandosi. La costruzione del castello viene conclusa dalla spinta di re 5-8. Il re viene pericolosamente integrato nella protezione della prima linea. Alla destra e alla sinistra del re vengono dispiegate coppie di generali Argento e Oro. In questo modo vengono a mancare i tradizionali triangoli dei generali. Anche se non fanno parte del castello, i cavalli concorrono alla difesa dei pedoni in colonna 7 e colonna 3. Ovviamente il primo problema che si può osservare è che tutti i generali sono impegnati nella difesa del castello, quindi nessuno di questi può concorrere a un'eventuale spinta offensiva da parte della torre. Un secondo problema è costituito dal pedone 7-7 che chiude la diagonale potenzialmente utilizzabile dall'alfiere 8-8. Un attacco su colonna 8 in testa all'alfiere potrebbe essere facilitato dal dispiegamento dei generali nelle caselle centrali. La compattezza è piuttosto bassa essendo la riga 9 totalmente libera dai generali. Il re ha tre vie di fuga per spinte retrograde. Questi però, una volta vincolato a movimenti lungo la riga 9, può essere facilmente minacciato da una torre paracadutata sulla stessa riga. La velocità di costruzione è piuttosto alta, bastano soltanto 5 mosse indisturbate per completare la struttura. La resistenza frontale e laterale sembrano essere basse per via della dispersione dei generali oro e argento su un ampio fronte centrale dello Shoghiban. Il castello Ahiru non sembra molto differente dal Nakatsumai. Da quest'ultimo si differenzia per il ridispiegamento dei generali oro nella posizione di partenza dei generali argento. Il re avanzato in 5-8, integrato nella difesa della riga 7, porta con sé tutti i problemi già precedentemente visti nel Nakatsumai. Un attacco ben coordinato sulla colonna 5 può portare a problemi di scambi e inchiodature in casella 5-7. Il pedone 7-7 chiude la diagonale all'alfiere. Una spinta di pedone 9-6 può creare lo spazio per una ricollocazione dell'alfiere in colonna 9. I generali oro lasciati in riga 9 forniscono quella difesa arretrata che mancava nel Nakatsumai. I generali oro hanno molta libertà di movimento e possono così riorganizzarsi e migliorare la struttura difensiva del castello. Le eventuali manovre offensive sono fortemente vincolate dalla mancata disponibilità di generali tutti integrati nel castello difensivo. Airu ha resistenza frontale e laterale bassa, ha una compattezza bassa e una velocità di esecuzione di sole 5 spinte indisturbate. Migi Giyoku è un castello non convenzionale per torre statica contro torre statica. Si nota subito che nonostante il giocatore abbia aperto con torre statica, ha nel contempo sviluppato il castello sulla destra. Il re e la torre sono pericolosamente vicini. Ciò contraddice uno dei consigli fondamentali dello shogi che vuole i due pezzi posti distanti l'uno dall'altro. Alla sinistra del re si può osservare un generale argento posto in testa a un generale oro. Questo ricorda vagamente la forma più elementare dello Yagura base. Il cavallo viene necessariamente spinto in casella 3-7 per lasciare spazio alla torre che deve arretrare in riga 9. Mentre i pedoni nelle colonne 5, 4 e 3 vengono spinti semplicemente in riga 6, i pedoni nelle colonne 2-1 devono avanzare il più possibile almeno fino alla riga 5. La colonna 1 viene presidiata dal pedone 1-5 supportato dalla lancia 1-9. In questa configurazione la torre 2-9 si trova in una duplice veste. Può essere un pezzo difensivo quanto un pezzo d'attacco. Sulla colonna 2 può ricoprire sia un ruolo offensivo che difensivo, mentre sulla riga 9 ricopre un ruolo di difesa da eventuali paracadutaggi. La torre in riga 9 ricorda l'espediente chiamato Subway. Potenzialmente la torre in riga 9 può raggiungere le colonne da 5 a 9 in base a quante celle siano state effettivamente lasciate libere. Tutte le colonne lasciate libere dal castello possono essere utilizzate dalla torre per fornire appoggio a dei pezzi spinti in un gioco offensivo. La coppia generale argento e cavallo in riga 7 fornisce un'adeguata protezione ai pedoni posti tra le colonne 5 e 2. Il grosso problema di questo castello è però, come già ricordato, l'avvicinanza tra il re e la torre. Attacchi ben coordinati possono portare a minacce contemporanee al re e alla torre. In questo caso il sacrificio della torre è un prezzo da pagare per aver usato il migigiyoku. La compattezza è minima e il re ha molte vie di fuga. La costruzione necessita di almeno 14 mosse indisturbate. Non è facile spingere i pedoni in colonna 2 e 1 fino alla riga 5 per via della contrapposizione con i pedoni avversari. La resistenza frontale è media, la resistenza laterale è bassa, ma l'effetto sorpresa è elevato. Segue un esempio di partita tra un principiante e un software. In questa partita tra un giocatore principiante e un software i due avversari si affrontano adottando entrambe un'apertura a torre statica. In principio il sente tenta una bozza di difesa sulla sinistra per contrastare possibili attacchi del gote con la torre statica. Alla diciannovesima mossa il sente inizia la costruzione del migigiyoku. L'argento prima e l'oro dopo danno forma al lato sinistro del castello. Queste spinte creano il corridoio necessario a portare il re dalla posizione iniziale 5-9 alla posizione finale 3-8. Con la trentasettesima mossa la torre 2-9 si colloca in posizione subway. La mossa 39 vede completare il migigiyoku arretrato per evitare sviluppi con potenziali scambi non convenienti lungo la colonna 3. I pedoni in colonna 2 e 1 sono rimasti quindi allineati agli altri pedoni in riga 6. La torre sfrutta la riga 9 per spostarsi in colonna 6 e promuovere una spinta offensiva del pedone. Il giocatore gote sfrutta il pedone, l'argento, l'alfiere e la lancia per mettere in crisi il castello migigiyoku. Seguono gli attacchi del gote per rompere la struttura del migigiyoku e manovre di alleggerimento da parte del sente. mentre il gote ha praticamente distrutto il castello in colonna 2 e 1 il sente riesce a catturare la torre avversaria. Il paracadutaggio della torre 7-1 permette al sente di ribaltare la situazione. Il giocatore gote perde l'iniziativa e il sente si avvia alla vittoria. Ricordo che la partita si è svolta tra un giocatore principiante e un software. Arrivederci al prossimo video di Introduzione allo Shogi. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.